Ehi la ciurma, rieccoci, io sono Mezzatest e siamo ancora qui con la guerra di Mauria, la guerra, uuuuh, ma è un altro figlio, ha 68 anni, così, va bene, allora, no, aspettate un attimo che qua, ok, stiamo per vincere ma, Sì, ci si schiantano contro, così, perché? Ah no, ok, andiamogli contro noi No, teniamoli qua però, questi, perché hanno bisogno di ripigliarsi un poco, questi qua, togliete le marce forzate e muoveteli qua Allora, il problema è che ci stiamo indebolendo molto per la gente persa Perché abbiamo 50.000 persone in meno di quanto dovremmo Questi dove stanno andando? A Aracotus Questi li muoveremo in là Perché, ahia, no, invece no, invece no, invece no Andate anche voi per piacere, perché Anche se mercenari mi servite Tutti, tutti qua, tutti qua, tutti qua, presto, presto Bloccate il movimento, please Yes, ci si schianteranno contro Boh, non so se è ancora necessario che andiate fino a giù, vabbè, ma voi fermatevi qua Stiamo rallentando parecchio qua Questi in 20.000 teniamoli là Come sono Sono più in fretta loro ad andarsene Eh sì Non perdiamo troppo di attrito, ma... Abbiamo vinto ad Aracotus, vero? Sì Ok, quindi... Avanziamo Non dovrebbero farci questa volta Infatti No Eh, lo sapevo No, vabbè, ormai è andato quello Porca pupazza, non riesco a gestire tutti sti front in contemporanea Vabbè, questi che hanno un generale di terrei, ma andiamo a questi 20.000 qua Arafane E questi 20.000 qua, vabbè Andiamo ad un attimo con gli altri 20.000 Uh, sono arrivati quelli da sopra Ottimo Questa è persa Eh Ci stanno venendo addosso là, ma... Dovremmo farci perché arrivano gli altri 20.000 Eh, ho bisogno comunque anche di voi, mi sa, eh Ok, abbiamo vinto ad Alexandria Drajani Questi li muoverei in su E la situazione è un po' Critica Attualmente Allora, possiamo chiamare un Omen Disciplina È finita di nuovo la guerra se l'hai uccidata tanto per cambiare Ok Eh, oh, ce n'è ancora parecchio per arrivare al fin qua, eh Dov'è che... Qua E là È che sto perdendo un po' lo sprint con tutti questi attacchi che abbiamo Non è... Non è una situazione ottimale al momento Ok, abbiamo vinto qua Ok Via, avanziamo Senza pietà perché Non dobbiamo permetterci rallentamente Dobbiamo arrivare fin lassù Spero di non trovare Delle... Dei numeri spropositati di truppe Ma Avremo probabilmente da Difendere Con le Unghie Di tutto Oh, si è ripigliato miracolosamente Allora, qua Ce la stiamo pian pianino facendo Non Cantiamo Vittoria Troppo presto Ma La situazione è positiva attualmente Vai, soldi ci stanno sempre Soprattutto in questo momento critico Perché non è ancora nulla detto Perché hanno davvero tante... Così tante truppe hanno Che Potremmo esaurire tutto il nostro sprint Prima di riuscire a A farcela Sì andate in lava Ah, melana Sì, sono sempre gli stessi Come sono messi? Non hanno manpower Ma hanno ancora comunque più corti Di quanto ne abbiamo noi Sì, noi ne abbiamo un 700 Quanto erano Ahia, porca miseria Non li abbiamo visti arrivare Da dove sono arrivati? Da sotto sono arrivati per forza Non dei generali loro? No, sono senza generale Noi ne abbiamo uno di livello 5 Che è sempre meglio di niente Siamo lo stesso un po' scoperti Che fregatura Ahia Oh, ogni cavolo di pezzo di confine Dobbiamo difenderlo con i denti Proprio qua Andate voi Avanzate Non so Che giro fa? Ah, perché c'è il forte là Beh, allora andate qui Ehm, vai Ok No, questi qua 12.000 In realtà C'è 12.000 Per il conto generale Livello 12 Li manderei Più avanti Oh, inizio a vedere Alexandrei a Caucaso Spero solo che non mi venga Il white piece prima Allora, vediamo un po' Intanto gli abbiamo chiesto Fin là Poi Questo 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 Fin qua c'è trebbero E qua sotto Siamo riusciti a prendere solo Tre nuove province Ma fin qua A loro va bene E se va bene a loro Lol Ehm Sì, qui non serve male Se riuscissimo a prendere Questo forte Visto che quello Blocca l'accesso Da sopra E qua E qua anche Non serve male Se riuscissimo a prendere Quell'altro Allora Qui Ci stanno venendo No Stiamo andando No, stiamo andando Non è addosso loro In realtà No, niente È persa È persa Mi sa Mi sa Mi sa proprio di sì Che è andata Sono in troppi Ne non arriviamo in tempo Con tutta sta gente Sì 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 No, li perdo tutti Porca miseria Quanto... Ah no, non posso chiederlo adesso Dobbiamo prima fare la pace Ah, questi altri qua Andate ad Alexandria O piane intanto E ora vada come vada No, boh, fino a un certo punto Perché dobbiamo riuscire a tenere Il pezzo di terra Ci sono sacrificati Li hanno bloccati Ma se con questi andiamo qua Riusciamo a risollevare la situazione Secondo me proprio no Però Magari gli facciamo perdere un po' di manpower A caso Ma con questi Potrei anche andare fin qua Dai Questa è la situazione tranquilla Sì, non mi hanno più rotto le scatole Meglio così Abbiamo perso E con questi ci schiantiamo di nuovo Ah, non possiamo prendere Perché è lontano dal nostro range diplomatico Ma porca miseria Tutti quelli stanno salendo in su Abbiamo altre truppe che possiamo mandare Sì Queste Mandiamole con un force at march Qui per forza Perché Abbiamo bisogno di difendere la Situazione Voi anche fate un force at march qua E Cerchiamo di tenere quel che si può tenere Siamo ancora abbastanza lontani Ma possiamo farcela Ci mancano due Cinque Sei Una decina di province Per arrivare a Tuxil Ma Tuxil La capitale da Mauri E' che c'è questo edificio così importante Boh Spero di no Perché sennò sarà un problema Cioè A prenderla Riusciamo a fare qualcosa qua? No Date in su Date in su Date in su E anche voi Sì Tanto non abbiamo abbastanza Truppe per Difenderci Ok Arrivano a darci fastidio Di nuovo Ok Allora Qua l'abbiamo preso Sedio E con questi andiamo Oltre Andiamo in qua Verso l'ex Andrea Caucasus E ci siamo quasi Se riusciamo a reggere ancora Ok Per un attimo Possiamo farcela Allora Voi No Venite a rompere le scatole Ah Ce n'è altri anche là Vaffanbrod Questi sono tutti in rotta Ma per fortuna Stiamo andando su altri Voi andate In qua Voi avanzate qua Qua situazione sotto controllo Sì Allora Qua Ah In realtà Ni 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 Cavolo Ci mancano tre province qua Riusciamo ad arrivare con questi Per piacere Ok Ok Abbiamo ancora Mille giorni circa Per riuscire a Portare a termine I nostri Intenti Manderei Questi 19.000 Fa Intanto che arrivano gli altri Questi dovrebbero fare un diversivo Se non altro Ok Dovremmo riuscire a prenderli Loro Questi 34.000 Mi rompono le scatole Più che altro Che generale hanno? Un generale di livello 6 Sulla costa come sta andando? Abbastanza bene Dai Questi non riesco ad assumerli Perché sono troppo lontani L'aggressive expansion È quasi Decaduta del tutto Nel mentre No ok Questo è quello che abbiamo Schattenato noi Di combattimento Voi andate a prendere Ce l'hanno fatta No ma non voglio mandarvi Tutti là Ah no Gli altri stanno andando Alexandria Caucus Ok Avanzate Avanzate Questi anche Li manderei là No 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 Andate a schiantarvi La porca miseria No Perché Con il generale Mi conta comunque Che perdiamo malissimo No Adesso passiamo in Danny Adesso ci picchiano Hostile sieges Ok Our sieges Questo e Questo Invece sulla costa L'abbiamo preso Quindi Sì Questi dove stanno andando Azetis Voglio andare a rompermi le scatole su Di sicuro Di sicuro Allora qua siamo a posto Qua ci siamo anche quasi Via andate di qua Ci servono Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Provincia Ancora Allora Intanto vediamo qua Se ci accettano la situazione attuale Allora Allora Desperation Sono disperate Buono Sennò ottimo addirittura Abbiamo con tutti la In modo da In modo da Ararli ancora 50.000 Dove vogliono andare questi 50.000 Porca miseria Io Nel dubbio mi allontano No Via Via Porca miseria Devo avanzare con queste Devo avanzare con queste il più in fretta possibile Lascio il minimo indispensabile la per gestire la situazione Saliamo 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 Poi avanzate Niente mi prendono La sedia di ramma Ok ottimo Allora Qua andiamo su Quella E questi rimuoviamo in su Qua come si è ammessi Si è ammessi abbastanza bene Ok Non riusciamo ancora a finirla in questo episodio La guerra No Vi saluto ragazzi Vi invito a lasciare un mi piace Scrivervi se per caso non è stato già fatto Ci vediamo nel prossimo episodio In cui Concluderemo la guerra E verosimilmente Riusciremo a prendere tutto Quello che c'eravamo prefissati Allora qua ancora non possiamo aggiungere nulla Ma qua sotto aggiungiamo questo E ci mancano Una provincia qua Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Ma forse c'è più comodo passare da sotto Qua sono Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Sette Sei Cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Uguale Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Eh ma una L'abbiamo Non lo so Facciamo così Nel dubbio Nel dubbio scendiamo a marce forzate con questi Ma è già fin troppo tardi Ciao a tutti